Purtroppo le polemiche ci sono state e continuano, però bisogna razionalmente a questo punto tracciare un cammino che ci porti ad affrontare nel miglior modo possibile la competizione elettorale. De Luca, mi sembra che lo abbia sottolineato, lo stesso segretario nazionale Bersani rappresenta il PD come candidato, è ovvio che tutti auspicano l'unità, l'allargamento della coalizione, una convergenza quanto più ampia possibile e in queste ore, in questi giorni bisogna lavorare per il raggiungimento di questi obiettivi, trasmettendo all'esterno un segnale di fiducia, di chiarezza e anche di incoraggiamento a quello che sarà il lavoro dei nostri amministratori e dei nostri elettori. Si deve cioè costruire rapidamente e in maniera convinta una coalizione che intorno al candidato sappia spiegare bene ai cittadini e agli elettori della campania qual è il programma, quali sono gli obiettivi che si intendono raggiungere e soprattutto qual è il modello di governo che si intende mettere in campo. Nonostante tutto ci sono a mio giudizio, l'ho detto in altra occasione e lo ripeto, ancora le condizioni per poter presentare un progetto credibile e su questo poi richiedere la fiducia del consenso.